È un vero e proprio terremoto a tutto campo, l'addio amaro al gruppo United Color di Luciano Benetton, perché quell'intervista pubblicata in esclusiva sul Corriere della Sera colpisce un po' tutti i campi, da quello finanziario a quello economico, fino a toccare anche il sociale, legato al futuro dei dipendenti, dei siti produttivi e relative comunità. Tutto in quella sfiducia verso la dirigenza del gruppo e in particolare a quel manager che viene dalla montagna, che nel 2019 diventa amministratore delegato e poi l'anno scorso dopo aver rassicurato più volte il signor Luciano, presenta d'improvviso un buco di bilancio che lo stesso Benetton definisce nell'intervista drammatico, intorno ai 100 milioni di euro e che tutto quello che è emerso, che sta emergendo da settembre 23, è una vergogna, uno shock che ci lascia senza fiato. Accusa pesantissima nei confronti della dirigenza che secondo Maurizio Castro, esperto di crisi aziendali, potrebbe mettere in moto anche la giustizia amministrativa. Il pubblico ministero presso il Tribunale delle Imprese potrebbe avere notizia di una possibile violazione commessa dagli amministratori di quella società in grave violazione dei loro doveri, tale da meritare una ispezione giudiziaria. Vorrebbe dire che potrebbe andare in amministrazione giudiziaria la Benettoni? Chi viene commissariata, potremmo usare questa espressione, la Benettoni, in base a quello che leggiamo, articolo 2409 del Codice Civile. Nel frattempo è arrivata la reazione dal quartier generale di Ponzano, attraverso l'Ansa, in cui Edizione, socio di riferimento di Benetton Group, ha già annunciato la necessaria discontinuità manageriale della società, che sarà discussa nell'Assemblea dei Socii fissata per il 18 giugno. Facile pensare che l'attuale amministratore delegato Massimo Renon dovrà farsi da parte dopo aver spiegato come si è arrivati al buco indicato da Luciano Benetton, anche se sempre all'Ansa, le fonti interne precisano che si tratta di una perdita significativa rispetto alle previsioni. Infine Edizione, che ha già investito 350 milioni di euro negli ultimi tre anni per sostenere la società, continuerà a farlo anche per i prossimi anni. Ma oltre alla storia in se stessa, per Maurizio Castro la vicenda a Benetton mette in luce per l'ennesima volta la fragilità manageriale delle nostre aziende. Non sarà più come prima, io sono convinto che le conseguenze saranno rilevanti perché interroga il rapporto tra la proprietà e il management, il modo in cui il management interpreta la propria autonomia, il ruolo di chi fa revisione dei bilanci, il ruolo di chi seleziona, recluta i manager, il ruolo di chi fa vigilanza. Da questo punto di vista tutti sono aspramente, duramente interrogati da questa vicenda. Possiamo dire che dopo il terremoto delle banche a Benete questo è un altro scossone alla nostra economia? Sì, culturalmente forse persino più insidioso perché le banche avevano una irriducibile specificità. Qui è proprio il campione stesso dell'impresa privata e quindi il campione stesso dell'identità Veneta che viene messo in crisi e quindi da questo punto di vista può avere socialmente e quasi antropologicamente dei rimbalzi molto più forti di quanto non potremmo immaginare.